Ciao a tutti bimbi! Eccoci qui per giocare un pochino insieme. Oggi mi raccomando, orecchie ben aperte, perché il gioco di oggi è quello di riconoscere i versi degli animali. Mi raccomando, fate attenzione. Pronti? Via! Bene, abbiamo ascoltato il primo verso. Di che animale è? E' della mucca o della gallina? Rispondete un po' voi. E... E' della gallina! Bravissimi! Ascoltiamo il secondo. Eccoci qui, il secondo verso. Di chi è secondo voi? Del cavallo o della mucca? Bravissimi! E' della mucca! Bravi! Passiamo al prossimo. Il terzo verso. Di chi sarà mai? Di un uccellino o del maiale? Bravissimi! Del maiale! Bene! Abbiamo ascoltato il verso. A chi appartiene? Alla rana o all'uccellino? Rispondete! Forte! Di chi è? Dell'uccellino! Bravi! Era il verso dell'uccellino! Bravissimi! Stanno andando bene! Avanti con il prossimo verso! Ascoltate! Di chi è il verso che abbiamo ascoltato? Del cavallo o del grillo? Rispondete un po' altavoce? Bravissimi! E' del cavallo! Bravi! Di chi è questo verso? Dai, è facile! Del cane o della rana? Bravissimi! Era proprio del cane! Era molto strano questo verso! A chi appartiene? Al maiale o alla rana? Pensateci bene! Bravi! Era proprio della rana! Bene! Siete proprio bravi! E questo? Di chi era? Dell'asino o della pecora? Bravi! Era della pecora! Bravissimi bimbi! Abbiamo ripassato insieme i versi degli animali! Spero che vi sia piaciuto questo gioco! Ci vediamo presto! Un bacio! Bene! Abbiamo ascoltato il primo verso! Di che animale è? È della mucca? O della gallina? Rispondete un po' voi! Eeeeee... È della gallina! Bravissimi! Ascoltiamo il secondo! Eccoci qui! Il secondo verso! Di chi è secondo voi? Del cavallo? O della mucca? Bravissimi! È della mucca! Bravi! Passiamo al prossimo! Gravissimi! Gravissimi! P裡面! P Gravissimi! 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 A presto